Con le Ferro, cittadina a sud della capitale, è un caso emblematico dell'emergenza ambientale in Italia. Oltre ai due termovalorizzatori, al centro di un aspro conflitto sociale, al cementivicio e alla discarica, le cause del disastro sono da ricercare nelle ombre di una storia di sviluppo industriale sregolato. Lo stabilimento della Bombrini Parodi Delfino, la BPD, dopo la Prima Guerra Mondiale e la produzione di esplosivi, passa dai cementi alla meccanica, poi alle fibre tessili, alla chimica, fino alla produzione di amianto, contribuendo allo sviluppo del centro urbano attorno alla fabbrica. Solo recentemente sono stati rinvenuti materiali tossici e scarti di lavorazione industriale sotterrate in discariche abusive e localizzate in vari punti della città, contaminando bestiame, terreni e la stessa popolazione. Le attività industriali hanno contaminato gravemente il fiume Sacco, secondo bacino idrico del Lazio, compromettendo le attività agricole e mettendo a rischio la salute delle comunità residenti della Vale del Sacco. Quel che resta a Crotone del proprio sviluppo industriale sono una grande nostalgia del benessere perduto e un territorio devastato dall'inquinamento. Le dimensioni del suo polo industriale, dove operavano Montedison e Pertussola Sud e attivo fino alla metà degli anni 90, sono impressionanti. Circa 530 ettari di terraferma e 1452 ettari a mare, compresa l'area portuale. Nel periodo di attività e durante le dismissioni sono state smaltite, spesso abusivamente, enormi quantità di rifiuti tossici, utilizzate, come svelò nel 2008 l'inchiesta Black Mountain, per riempire i piazzali di scuole elementari, di un istituto tecnico commerciale, della questura, della banchina di riva al porto, delle case popolari, delle villette private e delle strade. Nonostante scandalo e inchieste conseguenti, ancora oggi gli abitanti di Crotone vivono, passeggiano, lavorano e vanno a scuola su un territorio pericoloso e devastato. Taranto è l'emblema di uno sviluppo industriale sregolato che ha avvelenato nei decenni il territorio e chi lo abita. La normalità di Taranto è molto particolare, forse unica. Nel 2012 è stata classificata ultima tra le 107 province italiane per qualità della vita. Rispetto al resto della provincia, a Taranto si riscontra un aumento delle malattie tumorali del 30% per gli uomini e del 20% per le donne. Ciò nonostante, ogni provvedimento giudiziario emesso fino ad oggi e dovuto al mancato rispetto dei tempi di bonifica e conversione della fabbrica, è stato puntualmente contrastato da un atto governativo. Ma Taranto è anche una città diversa da quella raccontata dai media nazionali se si presta attenzione a coloro che non si arrendono all'inquinamento e al ricatto occupazionale, ma lottano per cambiare e migliorare la propria città. A Brescia c'è un'emergenza sanitaria che riguarda direttamente 25.000 persone, tra uomini, donne e bambini. Sono gli abitanti della zona sud della Caffaro, la fabbrica che dagli anni 30 fino a metà degli anni 80 ha prodotto migliaia di tonnellate di PCB, sversandone una grande quantità allo stato puro nell'ambiente circostante. Riconosciuto al pari della diossina, un pericoloso cancerogeno, il PCB ha generato ordinanze comunali che vietano ogni utilizzo del suolo, anche a scopo ricreativo, e il consumo di alimenti prodotti in zona. È per questo che i bambini, anziché superati, sono costretti a giocare su piattaforme di cemento, un'immagine simbolo della devastazione cui la città è stata sottoposta e di cui pochi, anche tra gli abitanti di Brescia, hanno realmente coscienza. Storicamente zona agropastorale e poi mineraria, all'inizio degli anni 50, Quirra vede insediarsi quella che può essere considerata per estensione la prima base militare sperimentale in Europa. Il poligono Interforze del Salto di Quirra occupa un territorio di circa 200 chilometri quadrati, investendo comuni della provincia di Cagliari e di Nuoro. Il suo insediamento ha determinato l'esproprio di terreni e case, pur permettendo a coloro che ci abitavano di restare e di continuare a svolgere le proprie attività. Ciò ha indubbiamente favorito un'effettiva convivenza tra società civile e la servitù militare, ma ha anche permesso che le gravi problematiche ambientali e sanitarie generate dal poligono siano rimaste nell'ombra e occultate dalle istituzioni. Malagrotta, zona alle porte di Roma, deve la sua fama per aver ospitato la più grande discarica in Europa. Attiva dal 1977 e chiusa solo nel 2013, dopo 17 anni di proroghe, raccoglieva ogni giorno 5.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati. Il suo proprietario, Maglio Cerroni, detto il re della monnezza, ha fatto della gestione dei rifiuti in enorme business con la complicità delle istituzioni. Ma nel 2014 le indagini hanno portato al suo arresto assieme ad altre 6 persone, alcune con incarichi istituzionali. Giustizia fatta? Purtroppo no, se non si procede all'immediata bonifica dei 240 ettari avvelenati che vedono terreni, coltivazioni, falde acquifere e vita dei suoi abitanti. L'avvicinarsi della chiusura di Malagrotta e l'individuazione di nuovi siti in cui stoccare rifiuti, tra cui Riano e Corcolle, poi accantonati, ha aperto nuovi fronti di conflitto sociale, al momento la sbaglierata risoluzione dell'emergenza rifiuti nel Lazio avviene attraverso l'invio fuori regione dei rifiuti prodotti da Roma. Grazie a tutti i nostri spettatori di Malagrotta, Grazie a tutti i nostri spettatori di Malagrotta, grazie a tutti i nostri spettatori di Malagrotta. Grazie a tutti